Cuori rossi disegnati nella piazza gemona del villaggio post-sismico di Fossa, da adulti e bambini. Un'arte vissuta come un evento non museabile, con le persone e per le persone, fondata sull'empatia e la quotidianità condivisa. Questo il contributo dell'artista iraniano Mohamud Salem Mohamadi al progetto Riabitare con l'Arte, Residenze Artistiche Internazionali nell'area omogenea 8 del cratere sismico 2009, realizzato da Carsa con la compartecipazione dei comuni di Barisciano, Fontecchio, Fossa e Ocre e con il sostegno dell'USRC, ufficio speciale per la ricostruzione del cratere. È un messaggio bellissimo che raccogliamo oggi come ufficio. Noi simboleggiamo ovviamente la ricostruzione dei piccoli borghi e quindi un simbolo nel simbolo perché la performance che oggi si va a attivare, che avrà un nuovo momento il prossimo 10 di agosto in questa piazza a Fossa, è un'occasione d'oro per unire le forze della ricostruzione fisica a quella che è la ricostruzione intangibile, che è una ricostruzione che deve iniziare a prendere la sua forza. Dipingere i cori secondo me è una cosa molto semplice da fare per portare l'arte dentro di società, perché secondo me gli artisti stiamo creando tante cose, oggetti, condizioni troppo complicate che vanno solo nei musei o nelle gallerie. Dipingere i cori è stato un atto molto semplice ma anche molto pacifico per riunire persone insieme. Nel progetto sono coinvolti 13 artisti internazionali multidisciplinari provenienti da Costa Rica, Argentina, Stati Uniti, Perù, Spagna, Germania, Egitto e Iran, che troveranno nei borghi abruzzesi nuova ispirazione. Sono 11 comuni del cratere sismico coinvolti da riabitare con l'arte. Acciano, Barisciano, Fagnano Alto, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, San Demetrio Nevestini, San Teosanio Forconese, Tione degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo e Fontecchio. E proprio nella piazza di quest'ultimo borgo, l'artista Jonathan Kitz di San Francisco, critico d'arte e filosofo analitico, ha realizzato la sua opera concettuale, La Fontana della Toleranza. Le Fontane della Toleranza sono delle fontane che partiranno da Fontecchio, ma verranno poi distribuite in tutto l'Abruzzo. L'idea è quella di instaurare un'idea di tolleranza in tutte le generazioni, in modo tale da poter sviluppare un'idea di comunità tra persone anche diverse.